Il nostro cuore è a Betlemme, ha detto Papa Francesco durante la Messa di Natale in Vaticano. Le festività cristiane quest'anno sono accompagnate dall'imperversare delle guerre nel mondo. In precedenza, rivolgendosi ai fedeli domenica, il Papa ha invitato a pensare alla Palestina, a Israele e all'Ucraina che soffrono per la guerra. Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il Principe della Pace viene refutato dalla logica perdente della guerra, con il rugire delle armi che anche oggi li impedisce di trovare allogio nel mondo. In particolare a Betlemme, le celebrazioni sono state di molto ridimensionate in segno di solidarietà con i civili della striscia di Gaza. Le autorità cittadine hanno cancellato la maggior parte dei festeggiamenti previsti, con un'eccezione per la tradizionale sfilata degli scout, che questa volta hanno portato un'enorme bandiera palestinese nella piazza centrale della città, che quest'anno non ha un albero di Natale. In Repubblica Ceca, il Natale è adombrato dalla recente commemorazione nazionale delle vittime della più grave sparatoria di massa nella storia moderna del paese. Per l'occasione, un'orchestra ha suonato il lacrimosa di Mozart alla stazione centrale di Praga. Ad Atene, invece, in segno di speranza e di augurio natalizio, greci e turisti hanno lanciato lanterne di carta verso il cielo, un gesto che è anche un appello all'amore e alla felicità.